Ufficializzata la data delle amministrative urne aperte per il rinnovo dei consigli comunali e per l'elezione dei sindaci il 3 e 4 ottobre. Nel Vervano Cusiossola sono cinque i comuni chiamati al rinnovo amministrativo. Domodossola è la realtà numericamente più importante. Si vota anche a Trasquera, a Macugnaga, a Premosello Chiovenda e a Quarna sotto. I fari politici sono tutti puntati su Domodossola. Qui i partiti sono al lavoro per presentare simboli e liste. A meno di due mesi dall'appuntamento elettorale, poco definita la griglia di partenza. Gli aspiranti sindaci potrebbero essere quattro ma anche cinque. Lucio Pizzi, sindaco uscente, non ha ancora sciolto la riserva. Da definire anche la sua collocazione, l'amministrazione a fine mandato è stata sostenuta da una coalizione formata da partiti del centrodestra. Nelle ultime settimane lo scontro tra il sindaco e questi partiti ha raggiunto Tony Aspri. Ieri una delegazione composta da Mirella Cristina per Forza Italia, Alessandro Panza in rappresentanza della Lega e Angelo Tandurella a nome di Fratelli d'Italia ha incontrato Pizzi. Sebbene non vi siano commenti ufficiali e ovvio gli abbiano chiesto se sarà o meno alla testa della coalizione di centrodestra, Pizzi avrebbe chiesto tempo per rifletterci, non più di qualche giorno. Si lavora alla chiusura delle liste in casa centrosinistra. A sostenere il candidato Gabriele Ricci dovrebbero esserci due liste, una civica, l'altra a timbro Partito Democratico. Due pure le liste a sostegno di Giuseppe Lafauci, sinistra per Domo e Buongiorno Domodossola. In corsa per la più importante poltrona cittadina anche Antonio Ciurleo alla testa di Domo per tutti. Ultimo possibile competitor l'ex leghista Carlo Valentini. Nessuna notizia ufficiale ma alcuni post da lui affidati ai social sembrano poterlo indirizzare verso la corsa elettorale d'autunno. Il tempo stringe per tutti entro un mese le liste vanno presentate. A giorni tutti dovranno scoprire le carte.